Mirko Brunetti tronista a uomini e donne. L'indiscrezione shock lascia tutti a bocca aperta. È una vera bomba di gossip. Ecco i dettagli Nelle ultime ore sul web non si fa altro che parlare della rottura di una delle coppie più amate di questa stagione televisiva Stiamo parlando di Perla Vatiero e Mirko Brunetti, protagonisti della passata edizione di Temptation Island e poi anche del Grande Fratello. I due, infatti, si erano lasciati dopo cinque anni d'amore ma si sono ritrovati nella casa di Cinecittà, tornando ufficialmente insieme, facendo sognare il pubblico. La loro sintonia e la complicità che hanno mostrato nel programma sembravano davvero quelle di una coppia destinata a stare per sempre insieme. Ma così non è stato. Nei primi mesi dopo la fine del GF, infatti, Perla e Mirko hanno continuato a condividere sui social tanti momenti della loro vita di coppia, seguiti e supportati da milioni di persone. Nelle ultime ore, però, dopo un periodo in cui non li si vedeva più insieme, hanno annunciato la fine della loro storia. La notizia è stata come un fulmine a ciel sereno per i loro tantissimi fan. Ma ora è arrivata un'altra indiscrezione bomba che riguarda Mirko e che è destinata a far discutere. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta nel dettaglio? Mirko Brunetti prossimo tronista a Uomini e Donne? L'indiscrezione shock lascia tutti a bocca aperta. Ecco i dettagli. Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono lasciati e la notizia ha fatto in poche ore il giro del web. I due protagonisti di Temptation Island e del Grande Fratello, infatti, sembravano una coppia solida e forte. Ma a quanto pare i problemi che li avevano portati a partecipare a Temptation si sono ripresentati negli ultimi mesi. Portandoli alla decisione di chiudere definitivamente la loro storia. La notizia ha lasciato i fan a bocca aperta. Ma l'indiscrezione bomba lanciata nelle ultime ore dall'esperta di gossip di Yanira Marzano è ancora più inaspettata ed è destinata a far discutere. La Marzano, infatti, ha pubblicato dei messaggi che le sono arrivati su Instagram da un utente rimasto anonimo, secondo i quali Mirko sarebbe in trattativa per diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Se fosse confermata, questa notizia farebbe sicuramente scalpore. Anche perché Mirko si è sempre dichiarato follemente innamorato di Perla e ha usato parole d'amore nei confronti della sua ex compagna anche quando ha annunciato la rottura. Molti sarebbero sicuramente da ridere vedendolo sul trono e metterebbero in discussione le sue dichiarazioni. Visto che Uomini e Donne inizieranno solo tra poche settimane. Si tratta, ovviamente, solo di un'indiscrezione e non possiamo affermare con sicurezza che Mirko siederà sulla poltrona rossa di Canale 5. Ma se così fosse si tratterebbe di una vera e propria bomba di gossip. Voi cosa non pensate?